No, la cravatta no. La cravatta sì, non ha senso un assicuratore senza cravatta. È come una prostituta senza borsetta, è una questione di stile, lo capisci? Lo capisco, ma... Leo, non è una buona idea. Sì che lo è, mi devi coprire per poche ore. Il capo è fuori città, non c'è nessun pericolo. Ma non so che cosa devo fare. Ma te l'ho spiegato mille volte. E poi se non fosse un'emergenza non te lo chiederei. Oggi battono all'asta, il generale è lì, dipinto a mano. Io abbandono l'ufficio per andare a casa? A comprare un soldatino? Un soldatino? L'ha chiamato un soldatino? Il generale è lì. Perdonalo signore, non sa quello che dice. Ok, quella volta che stavi affogando tra le onde, chi si è gettato per salvarti? Il bagnino. Ok, ma chi gli ha dato la mancia dopo? Io. Va bene, capisco. Se hai paura io non esisto. Io non ho paura. Ma? Ma niente, è solo che non mi sembra il caso di... Comunque non ho paura. Lo sapevo che non mi avresti abbandonato, soprattutto adesso che c'è in ballo una promozione a vice capo area. Comunque tranquillo, Tulli è un cliente facile. Vieni, firma e se ne va. Non ti lascerei mai con uno difficile. Ciao. Ciao. Leo Fardelli? È lei, Leo Fardelli? A sua disposizione. Il signor Tulli, suppongo. La deve... Di terrorizzare mia madre. Sua madre? L'hai chiamata anche di notte per dirle che se non stipula una pensione integrativa, finirà in un ospizio dove la laveranno col tubo dell'acqua. Considera solo un progettente. Grazie a tutti. Allora, Tuto, per quanto riguarda la cucina, mi raccomando l'ordine. Certo, signora, certo. Non sa, io non ero così convinta di prendere un collaboratore domestico, sì. Perché mi dà un po' fastidio che uno tocchi le mie cose. No, 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 questo lo faccio io perché è un capo un po' delicato, eh. Ma lasciagli fare il suo lavoro. Tuto, questi entrano ora, grazie. E tu rilassati, potresti approfittarne per prenderti un po' cura di te. Eh sì, dai una tiratina qui, gonfi qua, togli i baffetti e... E certo ci vorrebbe un miracolo. Va bene, Tuto, continua pure tu. L'acqua distillata è nella bottiglia trasparente. Certo, signora, certo. No, ma Tuto! Avevo detto bottiglia trasparente, questo è l'ammorbidente, scusa, questo mi si rovina il capo. Ma è una meraviglia! Ma cos'è? Un trucco che avete in oriente? Certo, signora, certo. Questo per sua madre, per sua moglie, per lei, per suo figlio. E il gattino lo vogliamo lasciare scoperto? No, ma ve lo fu, Fifi. Ecco qua. Questo copre gli animali domestici contro qualsiasi tipo di rischio, terremoto compreso. Come ho fatto finora senza queste coperture. Vabbè, ma tutti commettiamo degli errori. Allora, grazie ancora, Leo. Di nulla, arrivederci. Arrivederci. E lei chi diavolo è? Leo Fardelli. Dico questo ufficio da anni. Lei non è Leo Fardelli. E no, no. Decisamente lei non è Leo Fardelli. Complimenti. Ottimo lavoro. Posso darle del tu? Più che un'asta è stata una guerra. Però ce l'abbiamo fatta. È vero, generale? Ciao, Franco. Dammi qualcosa di forte per sciacquarmi la gola, per favore. Succo di mela? Ananas. Grazie. Allora com'è andata? Era un cliente facile, eh? Per fortuna è proprio nei momenti difficili che si riconoscono i veri uomini. Mi sono concentrato e tutto è andato alla grana. Finché non è arrivato il tuo capo che l'ha presa proprio male. Finché non ha visto il risultato. Tre polizze plus. E così, invece di licenziare te, ha assunto anche me. Cosa? Lavoreremo insieme. Ti rendi conto che è fortuna? Lavoreremo insieme. Ti rendi conto che è fortuna? Il dottore è impegnato in riunione e la chiamerà al più presto. Leo, ma hai capito che ho detto? Leo! No, non ho capito niente. Hai capito che ho detto? Ma sì che ho capito! Il capo ha assunto anche te! Sono contentissimo! E mi ha anche promosso a vice capo area. Vice capo area? Poldo! Ma non era la promozione che sognavi tanto? Cioè, sei il mio superiore? Certo! Non è fantastico! Dammi il cinque! Niente cinque, padrone. Poldo? Di là l'uscita. E questo gatto ha fatto una polizza! Che palle ste polizze! Ah! Sei vice capo area da un'ora ma hai già il servitore filippino, eh? Che schifo questi nuovi ricchi! E veramente io? Guarda che non so niente! Ciao ragazzi! Ehi! Tuto! Questi sono il mio vicino di casa Leo e il mio fratello Davide. Lui è tutto il nostro nuovo domestico. Non parla ancora bene l'italiano ma lo capisce perfettamente e poi è così utile! Non è vero, Tuto? Certo, signora, certo! Dove diavolo è la mia trussa argentata? Perché guardi me? Io mica mi eccito con le trusse. Forse il tuo tanga ancora ancora. Davide, tirala fuori! Eh, puoi sempre farne a meno, è solo una trussa. Solo una trussa? Qualcuno direbbe mai aver zigo ma è solo un push-up? Cos'è un push-up? No! Spillo! Cosa ti hanno fatto? Pensa positivo, Davide. Ancora un paio di lavaggi e va bene per il suo butteo? Guarda che è un domestico ricercatissimo, eh! Ha delle referenze incredibili, Tuto! Vai, dilla, vai! E poi ha questo trucchetto geniale che mette l'ammorbidente dentro al ferro da stiro, così! E va bene! La verità è che non ha un posto dove andare. Non possiamo aiutarlo? Poi dai, Davide, era solo una maglietta! Era originale! Con il vero sudore di Altobelli! Allora era ora di lavarla! Vogliamo dare una mano a questo tuto? Ma sì, Carlotta ha ragione! Diamo a tutto tutto quel che è di tutto! Davide, il lavoro non è tutto! Vero tutto? Certo, signora, certo! Signora? Ma che roba, capo! Fatti, non parole! Questo è il mio stile! Eh? Sei rimasta a bocca aperta? Leo, queste sono solo polizze base. Con queste l'azienda ci copre i costi. Beh, non basta! Cosa vogliamo? Arricchirci alle spalle di questi poveretti? Leggo qua che l'ultima polizza vita che hai stipulato risale a un anno fa. Il cliente è deceduto dopo tre giorni. Avevo 89 anni. E va bene, forse potevo fare un po' di più. Ma adesso andiamo a mangiare. Conosco un ristorantino nuovo! Non ti muovi di qui. Prima finici queste pratiche. Ma l'hai vista allora? Leo, è un ordine. Ma io devo mangiare. Io vado a mangiare. E quando torno voglio che le pratiche siano pronte. Ma stai scherzando? Ah, aspetta. Ah, ecco. Questo nuovo ristorantino è eccezionale perché c'è la crema e gli scampi. Curati un po' di più. Ricordati che rappresenti l'azienda. Quell'assassino di Tuto me l'ha distrutta. Era un regalo di mio padre. Se l'avessi assicurata adesso non avresti di questi problemi. Dai, ti preparo qualcosa da bere. Non voglio i tu succhi di frutta. E non li dovresti bere neanche tu. Perché? Ma ce lo vedi Sean Connery che beve un succo di frutta? Dovresti bere soltanto whisky se davvero vuoi avere carisma. Sì, così poi rischi che il carisma non arriva e ti resta la cirrosi epatica. Ciao! Guardate qua, il mio nuovo diploma di Shatsu. Mi è appena arrivato. Più grande! Pensavo di incorniciarlo e metterlo qui. Come se è antica, ancora i diplomi incorniciati. Beh, ma per incorniciare un diploma bisogna averlo. Tu cosa potresti incorniciare? Aspetta, l'abbonamento a Vogue? Senti Carlotta, qui c'è una questione più importante da risolvere. Tutto? Sì ragazzi, lo so, non sei ancora impratichito del tutto, però ha una famiglia da mantenere, non possiamo mica mandarlo via, no? Era solo un vaso. Etrusco, ma solo un vaso. Senti Tutto, fai una cortesia, non toccare mai più i vasi! Certo signora, certo! Il problema è sempre lo stesso. Eh, lo so, è la cavalleria. I massimali. Davide, non puoi pensare sempre al lavoro, devi distrarti un po'. Per esempio, io adesso avrei per le mani un paio di gemelline. Gemelle? Ora riconosco l'occhio della tigre. Sono giovani, carine, buone. Sai cosa potremmo fargli? Beh, modestamente qualche idea ce l'avrei. In che fascia le metteresti? Alta? Altissima, sono due gragnocche. Ma no, ma che hai capito? Parlavo della fascia di reddito. Potremmo proporgli delle polizze. Palle, Davide! Io ti propongo di uscire con due ragazze e tu mi parli di polizze. Non puoi pensare solo al lavoro, devi distrarti un po'. E che dovrei fare, portarmi i soldatini in ufficio? Non lo so, devi variare. Un po' di lavoro, un po' di relax, un po' di svago, un po' di fatica. Nordisti o suddisti? Vabbè, se tu hai il generale lì, a me toccano i nordisti. Lo sapevo, generale. No, non c'è più! Dove è finito? Dov'è lì? Qui. No! L'hanno decapitato! Chi è stato? Tutto. L'avevi lasciato di là da Carrotta, lui è passato a spolverare e questa è la testa. Tutto, maledetto mercenario, sicario venuto da Oriente! Non possiamo mandarlo via. Tutto ha otto figli piccoli e tredici cugini disoccupati da mantenere. E questo che c'entra? Io ho 95 paio di scarpe da mantenere. Sai cosa vuol dire spazzolarle, mettere il lucido, cambiare i tacchi? Scusami, Laura, avevo sottovalutato il tuo dramma. Credo che lo Stato dovrebbe darti una sovvenzione. E poi tutto non sa fare bene niente. Beh, ma se questo fosse un buon motivo per essere cacciati di casa, tu staresti per strada già da un pezzo. Che cattiva che sei! E comunque non è vero che tutto non sa fare niente. Stira da Dio, stira! Sole, tu che sei intelligente! Insomma! E hai tantissimi anni alle spalle! Insomma! Palla ragionare! Vedi tesoro, negli anni 60 noi abbiamo lottato perché ognuno potesse avere una seconda possibilità. E negli anni 2000 si è deciso di non darle più questa possibilità. Ma hai visto uno lavorare peggio? Visto? È svogliato, indisponente, arrogante. Irritante, strafottente e pelandrone. Ma che è tutto? Ma che è tutto? Io sto parlando di Leo. Se continua così... Licenzialo! Eh? Quando c'è la giusta causa. Io non capisco come fai. È tutta una questione di tecnica. Credi la pennellata deve essere morbida. Né troppo lunga, né troppo corta. Ti rendi conto che sei in un ufficio? Ti rendi conto che stavo per completare un granitire della Wehrmacht? E' la cosa più incredibile che continuiamo ancora a pagarti. Dove vai? L'orario è finito, me ne vado. Siediti. Mi stai per caso dando un altro ordine? No, questa volta è solo un consiglio. Bene, allora siccome è un consiglio decido di non seguirlo. Ciao. Hai ragione, scusa. Era un ordine. Il fatto è che io... Il fatto è che tu sei il peggiore dei miei subordinati! Nessuno mi aveva mai dato del subordinato. Parassita. Piaga aziendale. E anche sciagura, sì, ma... Subordinato mai nessuno. Quando hai finito l'elenco delle tue qualità professionali, finisci queste polizze. Ma non puoi trattare così un amico? Vedi, l'amicizia è importante, ma ci sono dei limiti. Limiti? Ho pensato forse ai limiti quella volta che il roscio ti voleva picchiare. No, sono rimasto lì con te a prendere i calci, come un vero amico. Leo, il roscio voleva te. Io le ho prese gratis. 15 anni in coma si ricorda tutto. Beh, anche per oggi abbiamo finito. Era ora. È stata una tortura. Però ecco, mi sembrava che la schiena andasse meglio, no? Mi accontenterei che non andasse peggio. Come se non avessi già abbastanza problemi per la testa. D'altronde, chi non ne ha? Eh, ma che ne parlo a fare? Che ne parlo a fare tanto oggi la gente? È di un egoismo da fare schifo. Eh, già, tutti si disinteressano agli altri, ognuno pensa a sé. Ne parliamo la prossima volta, arrivederci. Tuto, quante volte ti ho detto che non devi toccare i quadri? Certo, signora, certo. E quante volte ho ripetuto la parola mai? Certo, signora, certo. Certe volte mi sembri scemo. Certo, signora, certo. Ieri pomeriggio ho volato con Superman. Certo, signora, certo. E siccome mi annoiavo, ho fatto a pezzi mio fratello con una segha elettrica e l'ho messo nel frigorifero. Saresti così gentile da buttarlo tu? Certo, signora, certo. Certo. Certo, signora, certo. E intanto ci distruggeva la casa. Povero tu, con ca... però. Comunque ci distruggeva casa. Per la primavera anche la casa è mia. Ma questi sono dettagli. Il punto è che l'attitudine al lavoro è una questione di DNA. O ce l'hai o non ce l'hai. Eh già, è vero. Infatti a te manca un'intera catena genetica. Comunque la cosa importante adesso è che... è che bisogna liberarsi di tutto senza che ne soffra. Eh, ma non è mica facile, eh, liberarsi di quelli che non se ne vogliono andare. Mamma! Infatti, se mi ascoltate, chi glielo dovrà dire? Dovrà essere chiaro, ma non aggressivo. Deciso, ma non offensivo. Sono stata chiara? Chiara. Ma non aggressiva. E decisa. Ma non offensiva. Bene. No, 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 no. Non posso dirglielo io, sono troppo buona per licenziare qualcuno. Sono quelli come te che hanno lasciato mano libera a Hitler. Dov'è Fardelli? Immagino alla macchinetta del caffè. Credo di sì. Dovremmo spostargli la scrivania lì? Davide, abbiamo un problema. Sono tutto orecchi, capo. Il nostro problema si chiama Leo Fardelli. È uno sfacelo. Ma non è il peggiore del tuo gruppo? Meno male. È il peggiore dell'intera azienda. Ma è sicuro, guarda che a volte si hanno delle impressioni... Ascolta, ragazzo mio. Per chiarirti la questione... Accomodati. Userò una metafora. Se questa azienda fosse una quercia, un grosso albero secolare, Fardelli sarebbe il ramo secco che la sta facendo morire. Adesso è chiaro? Chiarissimo, capo. E cosa si fa dei rami secchi se non... Sì? Pronto? Sto arrivando. Vieni, Franco. Ecco qua. Sono tre euro. Ma proprio non riesci a fare una pausa al bar. Scherzi? Così ottimizzo. E poi proprio adesso mi è capitato un casino tra capo e collo. Sì, sì, ho sentito. Licenza Repoldo. Che devo fare, Franco? Eseguire l'ordine del capo e perdere l'amico o salvare l'amico e perdere il lavoro? Bella scelta. Un po' come scambiarsi le cabine sul Titanic. O scappare da Hiroshima e rifugiarsi a Nagasaki. Oppure cambiare l'ombrellone sulla spiaggia dello tsunami. Auguri. Grazie, Franco. Capitano tutti al lupo. Non c'è un giorno di respiro. Che succede? Il tuo capo gli da... Cosa fai? Non posso neanche più rilassarmi alla televisione? Ti devo dire una cosa importante. Cercherò di essere soft. Ti piace? Sì, non è male. È abbastanza soft. Rilassati. Ma sei impazzito? Chiudi gli occhi e rilassati. Tu sei un rano secco. Ah! Oh, Madonna! Vuoi fare meditazione e yoga? Ho capito, me l'ho preso un colpo. Ok. Oh, io sono un ramo secco. E vai tagliato. E vado tagliato. Preferisci il sole che mi spezza o la sega che mi taglia? Più semplice. Più semplice. Ti licenziano. Mi licenziano. Mi licenziano. Mi lic... In che senso mi licenziano? Nel senso che non hai più un lavoro. Beh, me lo dici così. Oh, più sov non m'è venuto. Non so, parla con il capo. Digli che sto attraversando un momento difficile. Che dura da dieci anni, Leo. Eh, niente, mi dovrò giocare il jolly. Volevo tenermelo per quest'estate, ma visto che è una situazione di emergenza... La polizia Anselmi. Gli ho fatto firmare tutto. È l'assicurazione dell'anno. Guarda lì. Tutto, tutto, tutto. Devi solo mettere una piccola firmettina qua per autorizzare il deposito. Ed è tutto a posto. Ma non ci sono le verifiche sull'attendibilità del cliente. Non è onesto nei confronti della società per cui lavoriamo. Davide, se volevi fare l'onesto, dovevi fare il missionario. Qui si tratta di assicurazioni. Firma e non rompere le scatole. Non posso firmare tutto quello che mi capita sotto gli occhi. Beh, per un amico puoi. Non è professionale. Dipende da te. Preferisci essere il mio capo o il mio migliore amico? Non lo so. Mi vuoi umiliare? Vuoi vedermi costretto a chiedere alla paghetta mamma? Già gliela chiedi. Questo lavoro è l'unica cosa che sono riuscito a non perdere. Non lo so. Dipende tutto da te. Puoi essere il mio capo o il mio migliore amico. Non sono riuscito a rispondergli. Io vorrei essere tutte e due le cose. Un capo esigente e un amico comprensivo. Funziona solo nei film, quelli di serie B però. Secondo lei cosa dovrei fare? Davide, io posso aiutarla a tirar fuori delle risposte, ma è lei che si deve fare le domande. Ha ragione. Sembrava Marzullo. Ma come? Non è la psicanalisi che dovrebbe dare le risposte? No, quello lo fanno i maghi. Allora forse doveva andare da un mago. Scommetto che la parcella è pure più bassa. Davide, cerchiamo di fissare alcuni punti, ok? Da quanto tempo conosce Leo? Da una vita. Da quanto ha questo lavoro? Da una settimana. Beh, mi sembra che ha tutti gli elementi per prendere una decisione, no? Insomma, lei mi sta dicendo che è solo una questione di durata. Cioè, quello che dura di più, vale di più. Spesso è così. Anche nel sesso. Che non ho detto? Niente. Metti una firmetta e mi rendi un uomo felice. Chissà perché, ma sento centinaia di vocine che mi dicono non farlo, non farlo, non farlo. Adesso senti pure le voci. Cosa sei diventato? Un medium? E dai, firma. Firma. Grande amico, non te ne pentirai. Hai fatto la cosa giusta. Sì, per l'amico ho sbagliato. Credo di morirci su quel lettino. Oggi è stata infinita. Vedrà che tra tre o quattro ore gli effetti benefici del massaggio si faranno sentire. Ma quale massaggio? Il problema vero è un altro. È che ho mio padre che ha 97 anni e non riesco a trovargli uno straccio di badante. Ho la persona che fa per lei. Veramente? E quando pensa che sarebbe disponibile? Praticamente subito. È un angelo, grazie. Che cos'è? Niente. Un problema risolto. Le faccio sapere del badante. Mi raccomando, ci conto. Ci conti. Grazie. Alla prossima, arrivederci. Tutto, come stiratore però, non avevi rivali. Vabbè, no. Negligente, approssimativo, superficiale. Un danno per l'intera azienda. Ma insomma, in ufficio tutti sanno che i conigi Anselmi entrano ed escono dal centro di igiene mentale. Certo, la polizza di Leo era leggermente irregolare, però mostrava anche un certo talento propositivo che personalmente ritengo... Le questioni personali non debbono interferire con l'azienda. Sei licenziato. Giusto? Io? Ma la polizza l'ha fatta lui. Davide, quante volte ti devo ripetere di non firmare tutto quello che ti viene sotto gli occhi? Non la deluderà. No. Da te so cosa aspettarmi. Una mediocrità assoluta ma costante. Grazie. Spero almeno che questa storia ti sia servita da lezione. Puoi giurarci. Mi ha fatto crescere. E ormai non si torna più indietro. Quindi prenderai il lavoro più seriamente? Certo. Il Leo che hai di fronte è un uomo molto più maturo. Il Leo infantile, superficiale, ormai è morto e sepolto. per sempre. Bravo, Leo. Complimenti. Grazie. Generale. Com'è sereno. Sembra vivo. E non faccia quella faccia. Può capitare a tutti di perdere la testa. Addio generale. Per me sarà sempre il generale Lee.